Con la chiusura del cinema moderno a Giulianova nel 2018 è venuto a meno l'ultimo luogo che dava la possibilità di godere di una proiezione cinematografica in un territorio dove spazi teatrali e sale da concerto si contano con il Lumicino. E proprio per rilanciare la struttura è stata presentata l'iniziativa Facciamo un Cinema promossa dal Neocomitato in programma per sabato 11 maggio dalle 10 a mezzanotte in piazza Buozzi nel centro storico del comune costiero di Giulianova. Il cinema è chiuso ed è un cinema che copriva non soltanto la città di Giulianova ma anche Roseto, anche l'interno del Terramano, molta costa ed è un cinema nel centro storico preziosissimo per fare cultura, per parlare e raccontare anche il territorio. Ed è per questo che vorrei nel rilancio di questo cinema l'intervento di istituzioni, di soggetti privati, di imprenditori che guardano come una possibilità anche per loro di investire in comunicazione e in un progetto che si occuperà di cinema ma anche di tante altre forme d'arte, di videoarte, di cultura in generale. Il titolo dell'iniziativa è Facciamo un Cinema, un nome un po' particolare. Non sarebbe nato da me questo titolo se non fosse stato grazie al comitato che è nato perché io sono di Palermo e il senso di questo titolo lo hanno forse i Terramani più di me. Lo famo, lo facciamo, lo vogliamo e quindi per parlarne, per capire un po' che progetto possiamo creare venite sabato, la mattina ci sono dei bellissimi laboratori sul linguaggio e sulla scrittura e il pomeriggio si racconterà delle possibilità che si possono creare intorno a un cinema e poi vedremo dei bellissimi lavori di documentari abruzzesi, di autori abruzzesi.